Ricominciamo dall'inizio e cioè da Antonella Bukovac, forza, sveglia! Allora, sempre da Casa Dolce Casa, le voci della camera da letto. Sono rughe le doghe del mio vecchio letto, cigolano e sbavano solo quando mi metto il rossetto. E aspetto il ritorno della minchia di re. È un pesce ermafrodita che deposta le uova come madre e ritorna all'alcova come padre, in perfetta aderenza alla natura. A noi i segreti, gli scheletri, gli orrori, negli armadi fanno l'ossatura. Io ci tengo dodicimila corpi celesti che cadono ogni anno sulla terra per attrazione fatale. Questo è il luogo dei gesti che crescono nella resa. È un orto, un giardino, un'aiuola dove la terra è nera e pesa quanto il corpo è innestato al tronco dell'ulivo secolare. Qui tutto mi riguarda. Guarda, riguarda anche te. Il nostro dovere è fare della poesia corpo, del corpo poesia. Certo, qui è così, altrimenti svanisce, la poesia impazzisce senza umori. Il nostro dovere è contare i pori, le pieghe tra i lenzuoli, stanare tra i suoni gli odori, ascoltare tra i suoni i rumori, salvaguardare la vecchiezza, combattendo la secchezza virginale con la spada e lo scudo dell'antibiotico naturale estratto dalla resina dei cuori, cuori innamorati e non ancora impagliati. Dobbiamo liberarci dell'intimità, sostituirla con la cecità che predilige legami olfattivi e indagaglintarsi. Dentro il mio interno, intero inverno, sento la scura e sospesa che poggia sul perno del sospetto. Difetto, diletto, maledetto. Niente però che non possa essere risolto a denti stretti, dentro un letto. Antonella Bucovaz, forza ragazzi che si ricominci a votare! Su, nove! Sembra di farlo nel deserto. Nove! Le sta bene? Sì, no! Dite la vostra... Cioè, come dire, esprimetevi! Aprite il vostro animo! Nove! Nove! Otto! 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 Un nove e un otto, vanno via! Nove! Otto! Otto! Per un totale di venticinque punti, totali cinquantuno, Rosaria Lorusso. Forza! Le voglio tutte per me, queste classi così silenziose. Compro cose compulsivamente per raggiungere il respiro che mi manca, di sbrigo, frettolosamente faccende, rammendo, strappo il filo coi denti, assottigliando le labbra ignare di un rigido ghigno. ignoro gli squilli del telefono, assumo un atteggiamento accogliente alle mie quattro stanze, subaffitto gentilmente, mani e piedi a qualcun altro o altra dalla mente, spippolo, spippolo doverosamente il cellulare, rintraccio il telecomando, aggiungo, a fine cottura, ancora un po' di sale che non sa di niente. Per i terremotati dell'Emilia, primo luglio 2012. Le cose di casa sono trappole di dolore. Se ci resta impigliata una mano, subito si gonfia una porzione di cuore, una finestra si spalanca su una mattina affosa, che galleggia gialla di ricordi, la mano sudata sostiene una presina fatta all'uncinetto, mentre si sfilano contorcendosi come un lombrico al sole, i suoi colori accozzati malamente, avanzi di filo, certo, ma anche segnali di serate malinconiche, in cui muovere due dita, accavallate come per scrivere, fu per una donna vecchia l'unico modo intenerito di sfidare il ritmo mortale del mondo. E gli asciughini si comportano con le loro macchie indelebili, da sipari bucati aperti sul tetro teatro dei sensi di colpa, non buttare a carezza piegando e riponendo con cura queste cose di casa che sopravvivono alle donne morte, loro non sapendo ancora se se ne possono andare e eventualmente dove sono la polvere composta dalla cenere delle tue sigarette mentre fai le faccende. Sono diventate la polvere che si annida negli angoli dove l'aspirapolvere non arriva e coabitano volentieri pur di abitare ancora con esoscheletri croccanti e trasparenti di insetti. Sono le nostre parche domestiche, le nostre aracni arcane, il nostro vero sistema di allarme, cacciarle non vale, proteggono, proteggile, dureranno comunque ancora poco, lavale ogni tanto, profumale di spigo, non fanno rumore, ti aiutano a dormire, ti fanno compagnia di giorno e di notte, quando la casa vuota sarebbe solo silenzio. queste tue eredità sovrabbondanti e persecutorie, salvale dalle rovine, occupano poco spazio quegli spazi inermi di vite che sorridono da foto in bianco e nero, in giallite, ma le foto rovesciale in un cassetto e ripensale, giovani, colorate, operose e vive. Rosario Lurusso, votate, forza ragazzi! Otto, no, non le piace, poco, troppo, mi dica! E così non significa nulla però! poco o un po' troppo dice, si è allargata, 7,3 adesso è meglio? Più giusto? 7,3, 8, 8, 8, 8, un 8, un 7,3, va via 3 per 8? ragazzi, pure in matematica andate male, 3 per 8? ma c'è mezzo, no, un punto di penalità per chi ha sforato di 20 secondi, quindi un punto di penalità, totale 23, totale generale 45, mentre mi torna la voce, Francesca Gironi. Il giorno in cui ho saputo, il giorno in cui hanno detto che stai per sposarti, non ho provato niente, è un fatto già da tempo io non ti penso affatto non ho appeso il collo a un albero né ingoiato barbiturici alla Marilyn non ho lasciato che un fular mi strangolasse a bordo di una macchina sportiva ho spento la sigaretta prima di addormentarmi per non bruciare viva mi sono tenuta alla larga dal Mississippi e i suoi affluenti e non essendo una rock star ho evitato l'eroina i fucili a pompa ed altri eccessi camminavo sui navigli in compagnia di amici andavamo fuori a cena e abbiamo bevuto un vino rosso rubino chiaro fruttato all'aroma di ciliegia camminare non era un problema e neppure mangiare o bere e il giorno dopo andare in scena il corpo ha risposto perfettamente alla trasmissione degli impulsi piuttosto volevo domandarti sei proprio sicuro di sposarti a febbraio no perché secondo me a febbraio fa troppo freddo grazie francesca votate forza sono stato distratto da una bella poetessa provenzale ma non potevo fare altrimenti otto e mezzo nove sette virgola otto otto virgola cinque un po' di complicazione nove nove via no scusa nove via meglio che tolgo il tuo lei è più simpatica otto sette virgola otto via otto virgola cinque otto virgola cinque e nove e siamo arrivati a ventisei punti totale cinquanta due cinquanta l'ultima lettura del poetry slam il secondo di ritratti di poesia Simone Savogin grazie è perché non l'avete ancora sentita questa si chiama adoro l'essenza perché mi piacciono gli acrostici e anche se non li sente nessuno io ci gioco avrei voluto conoscerti che ancora non sognavi per perdermici insieme a quegli occhi nei voli e nei pugnali quando ancora i capelli erano lunghi avrei potuto dormirci respirarne il sapore di crescere che avete voi spiriti liberi avrei voluto conoscerti per capire le scale e quei salti che i pensieri di ieri intessano in te con certezze momenti e poi dubbi inferti col fuoco di mani incapaci di senso del vero e parlare con te di quei crucci che sono diventati i tuoi muri duri scuri e pesanti che ora ci vedono sentirci da parete a parete con mani che corron mattoni avrei voluto conoscerti ma non è stato avrei voluto abbracciarti nei vicoli che sanno di mare quando ancora i tuoi sedici anni davan senso a sempre e mai avrei voluto conoscerti quando si impara il valore di tutto seguire conquiste sconfitte scaldare nei giorni di gelo trovare quel tempo speciale che ti fa danzare anche quando ti piove nel cuore avrei voluto cullarti in Irlande di cieli e delfini a sentire negare sentire e a negare con te nei ricordi di soli migliori di ammirarti cantare avrei voluto volare nei baci che ti han resa speciale nei vini che ti sanno apprezzare nei giorni di scuola e di quiete che hai preso per mano e posato in lettere spedite alla te del futuro avrei voluto viverti da lontano e da sempre come le musiche dolci dei grandi quando ancora eri in un'altra persona avrei voluto e non ho com'è giusto che accada nel caso e come nel caos ci si scontra è inutile tentare di fermarsi a vicenda il tempo è fatto percorrere istanti di vetro e di giostre e dimostra la forza che ha alleviando dolori ma sconfitto sorride disarmato quando stringo il ricordo di te avrei voluto conoscerti quando sbocciavi e scrivevi con petali dolci che libertà non è solo abbattere muri ma anche costruire sorrisi avrei voluto ci fossi quando in tutti cercavo i tuoi passi e capivo che in fondo importa solo indossare i secondi diamante per aiutarsi in quelli di buio e se anche si è con promesse il bastarsi non è un compromesso e ora che so che tu esisti sono fiero di avere vissuto perché questo è tutto quello che ho sempre voluto Simone Savogine votate forza un due tre dai non copiare non copiare copia dieci nove dieci nove e mezzo nove via un nove via un dieci resta nove e mezzo nove e dieci allora intanto grazie per aver giocato questo gioco con noi grazie di aver rischiato per una volta di portare la poesia fuori dai luoghi dove siamo abituati a vederla esattamente in quei luoghi dove è nata e dove continuerà a vivere anche quando i libri non ci saranno più cioè nella comunità tra la gente nella voce e nel respiro di chi la produce e prima di passare a vedere chi ha vinto perché come diceva dice ancora perché gode di ottima salute il mio amico Marcelli Smith che il poetry slam lo ha inventato a vincere un poetry slam è sempre la poesia e basta al di là di chi poi alza il trofeo l'assegno il fiore o i libri voglio presentarveli uno per uno in ordine alfabetico ma prima di questo ancora un applauso per la nostra giuria grazie ragazzi che ci ha aiutato prego allora è poetessa è performer artista visiva è uno dei nomi di uno strano paesino dove si fa un bellissimo festival dove non vi invitano mai che si chiama Topolò Antonella Bukovac Rosaria Lorusso devo presentarla a ritratti di poesia una delle più grandi poetesse italiane che è sempre così gentile da giocare con noi danzatrice performer e poetessa dalle marche Francesca Gironi il campione italiano di poetry slam in carica candidato italiano al campionato del mondo Simone Savogin vince il secondo poetry slam di ritratti di poesia con 28 punti e 50 Simone Savogin e gli diamo dei libri particolari gli diamo questo libro che parla di Majakoski di Serena Vitale premio Napoli eh di quest'anno di Majakoski è sempre bene parlare e parlarne anche se come dice il titolo il defunto non amava i pettegolezzi questo è un nome che si fa poco nella poesia italiana ma è probabilmente uno dei nomi più importanti della nostra poesia del secondo novecento le opere complete di Emilio Villa se non lo conoscete fatelo presto scoprirete un vero e proprio genio questo è invece un libro a cui io tengo particolarmente è il libro di un mio allievo un mio allievo che ha deciso di volare lontano lontano da qua quando era molto giovane quando aveva poco più della vostra età si chiamava Alberto Dubito in nome suo facciamo un premio è stato un grande rapper è stato un grande autore di hip hop si chiama eravamo giovani stranieri e ogni volta che faccio il rap ogni volta che faccio lo slam ogni volta che provo a fare poesia Alberto resta sempre con me e vi prego di fare un grande applauso anche ad Alberto Dubito grazie a tutti